E' tutto pronto per l'atteso evento della prima alla scala 2017 in programma oggi 7 dicembre a partire dalle ore 18. Una storia di amore e morte ambientata ai tempi della rivoluzione francese e questo il riassunto dell'Andrea Kenie, l'opera di Umberto Giordano che aprirà ufficialmente la stagione del teatro alla scala di Milano. Un evento al quale parteciperanno ospiti illustri, tra cui i personaggi famosi del mondo dello spettacolo e della tv italiana ma anche le istituzioni che questa sera non mancheranno all'evento in programma la scala di Milano. Dove si potrà seguire l'evento in diretta televisiva? Andrà in onda anche in streaming, il gratuito video oppure no? Le anticipazioni ufficiali rivelano che anche quest'anno la RAI ha deciso di adempiere al suo ruolo da servizio pubblico e di trasmettere in diretta televisiva sulla rete Ammiraglia la lunga diretta dell'Andrea Kenie di oggi 7 dicembre. L'appuntamento con la prima la scala 2017, infatti, è in programma su RAI 1 a partire dalle ore 17.45 circa subito dopo una versione short della vita in diretta condotta dalla coppia Francesca Fialdini-Marco Liorni. La padrona di casa sarà Millie Carlucci che introdurrà l'evento assieme ad Antonio Di Biella, dopodiché dalle 18 in poi lasceranno spazio al maestro Riccardo Sciagli e ai vari cantanti che prenderanno parte all'evento. Ecco la trama dell'Andrea Kenie della prima la scala vi ricordiamo, inoltre, che sarà possibile seguire la prima la scala di oggi 7 dicembre anche in diretta streaming online. Tutti gli spettatori, infatti, potranno accedere al sito web RAI Play e accedere alla sezione dedicata allo streaming gratuito delle reti RAI. Potrete scaricare anche l'app gratuita di RAI Play Video che vi permetterà di vedere la diretta in streaming da tablet oppure cellulare e ancora potete utilizzarla per rivedere la replica della prima alla scala di oggi nel caso in cui non riusciste a seguirla dalle 18 in punto. L'opera che vedremo in onda stasera dalle 18 in diretta su RAI 1 si ispira alla figura storia di André Kenie, poeta francese che finì sulla ghigliottina nel 1794. Nel melodramma l'uomo si innamora della contessina Maddalena, ma la rivoluzione travolge le loro esistenze, portandole ad una tragica fine lui sarà condannato a morte e lei per amore finirà sul patibolo. RAI 1 prima alla scala diretta RAI 2 prima alla scala diretta RAI 2 prima alla scala diretta RAI 2 prima alla scala diretta Grazie a tutti